A riscuotere le imposte a Modica sarà una nuova società. Molti cittadini non pagano le imposte. Sono le dure parole pronunciate ieri in consiglio comunale dall'assessore al bilancio. Quindi il ricorso immediato ad una ditta che comincia a riscuotere. Gli insoluti a Palazzo San Domenico aumentano giorno dopo giorno e adesso l'amministrazione comunale si preoccupa di arginare il fenomeno dell'evasione. La denuncia dell'assessore al bilancio ha fatto intendere come il comune sia seduto su una voragine enorme. Quella scavata nei conti della sua poco incisiva capacità di riscuotere le tasse dei cittadini. Dal 1 gennaio prossimo però proprio la riscossione dei tributi sarà determinante per acquisire maggiore libertà di manovra sul fronte del patto di stabilità. Da un lato entrerà in rigore la riforma dei bilanci locali che chiede ai sindaci di bloccare nel bilancio un fondo crediti. Tradotto, chi riesce a riscuotere le tasse godrà dei benefici del nuovo patto. Chi non riesce a riscuotere dovrà tagliare le spese. Così facendo il governo Renzi mira a rendere più trasparenti e aderenti alla realtà i bilanci comunali spesso basati su entrate fantasma o solo teorica che non si trasformano mai in incassi veri e propri.